Per un minuto di Storia con Mario oggi ricordiamo la notte del 18 luglio del 64 d.C., la notte in cui scoppia l'incendio che devasta Roma, l'incendio causato, secondo lo storico svetogno, dall'imperatore Nerone. Nerone stesso fece appiccare il fuoco alla città, sempre seguendo la versione di Svetonio perché riteneva insopportabili i piccoli edifici, le piccole vie, viuzze di questa che era l'unica grande metropoli del mondo antico. Il fuoco devastò 10 dei 14 quartieri di Roma, causò migliaia e migliaia di morti, 200.000 senza tetto. Nerone, che era accusato di essere l'origine dell'incendio, accusò a sua volta i cristiani. Ne venne fuori una delle più feroci persecuzioni della storia.